Musica Ben ritrovati, buongiorno a tutti cari telespettatori di Fano TV Oggi è il 10 di agosto 2016 e questa è Occhio ai giornali La rassegna stampa del mattino, 7.30 puntuali in diretta Come sempre da lunedì al sabato per sfogliare i titoli delle notizie più importanti Che troverete sui quotidiani in edicola il resto del carino del Corriere Adriatico Allora come sempre sfogliamo il calendario Prima però con l'almanacco, vediamo il santo di oggi Oggi è San Lorenzo San Lorenzo è un diacono, è stato un diacono e anche un martire Ne ha viste davvero tante E parliamo di un diacono che visse nel 258 circa E insomma questa è la storia È legata alla notte di San Lorenzo, alla notte delle stelle Il sole è sorto alle 6.06 e tramonterà alle 20.20 Stelle che purtroppo però a causa del maltempo Vedete nel sito della protezione civile delle Marche Stelle che non riusciremo probabilmente a vedere questa sera A causa di questa perturbazione che porterà a precipitazioni sparse dalla tarda mattinata Prevalente crattere di rovescio temporale Spostamento dall'entroterra verso la costa I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità Specie nel settore centro settentrionale della regione Le temperature saranno senza variazioni di rilievo Questa è la previsione per la giornata di domani Giovedì 11 Ancora rovescio temporale al mattino Soprattutto lungo la costa Nel pomeriggio poi Saranno previsti fenomeni residui Sui rilievi Ma insomma col tempo Così rimarrà incerto un po' per la giornata di domani Migliore invece decisamente Vedete nella giornata di venerdì Quando tornerà il cielo sereno L'alta probabilità di tempo stabile soleggiato sulle Marche Rimarrà per tutto il fine settimana Con temperature in ulteriore rialzo Cominciamo a leggere i giornali L'applicazione che non piace Quella che ha voluto utilizzare la regione Marche Per scegliere il sito dove costruire il nuovo ospedale unico L'algoritmo non funziona L'ospedale è un rebus L'applicazione ignora la densità abitativa Segretezza forzata sulle simulazioni Tempi di percorrenza teorici E mancanza di partecipazione politica E questo il portato dell'app della regione Per scegliere il nuovo ospedale di sito Del nuovo ospedale di Marche Nord Tra Chiaruccia, Case Bruciate, Muraglia, Fosso Seore e Arzilla Carignano Le misurazioni di Google Maps ignorano la distribuzione territoriale Appunto della popolazione La fotografia è per l'Inter olandese Che riparte da Ancona Stasera c'è la partita in casa dell'ex allenatore Mancini Poi sulla giunta fanese il risparmio dell'indenità Che si sono dimezzati gli amministratori Il 10% La giunta fanese dunque all'insegna della sobrietà e del risparmio Un nuovo indirizzo sulla decurtazione delle indennità Intrapreso dalle rinnovate giunte anche di Fossombrone e Mondolfo Che però è stato anticipato a Fano sin dal 2014 Appunto per il taglio dello stipendio del 10% E 4 amministratori su 7 hanno indennità dimezzate Sotto la testata del Corriere Adriatico All'aeroporto di Fano la vacanza è da brivido Si parla dei lanci con il paracadute Poi 4 DJ leggendari a Civitanova Marche E lo sport con il Fano Tra rinforzi e abbonamenti Mentre la Vispesero sfuma l'acquisto di Oliveira E dunque andiamo adesso sulle pagine interne Fano, sobrietà e risparmio per la giunta 1 su 2 si dimezza l'indenità Costi della politica Tutti gli amministratori comunali Rinunciano volontariamente al 10% Su dunque camion Spese di gestione abbattute con il metano A Fano Transervice Presentato un sistema di alimentazione misto Gastronomia, cultura e desideri L'estate clou tra gusto e amore La Proloco prepara i due eventi principali Da domani c'è in giro per fan Venerdì notte la notte appunto delle lanterne Per il tour in centro Già venduti 500 biglietti Fruibili anche 13 musei e monumenti Ancora dal Corriere Adriatico Le pagine di oggi del giornale marchigiano Mettiamoci sui binari di Pesaro e Senigallia Seguiamo un po' quello che stanno facendo Visto i risultati soprattutto sul turismo Lo dice il direttore della Camera di Commercio Che auspica meno paletti per organizzare le iniziative Poi c'è il Borgo Cavour in festa Sul palco salgono Ripalta E Tre Ponti Promozione turistica E consolidato il rapporto Rosciano Country invece Spettacolo con Lady Over Appuntamento al parco per una settimana Ricca di musica, film e show Rosciano Insieme ha organizzato anche quest'anno Nell'omonimo quartiere La festa che appunto parte questa sera Dalla Valle del Cesano Il Gran Giorno di San Lorenzo Premio ai Cittadini Modello Per la Festa del Patrono Prestigioso concerto e consegna di otto benemerenze Stiamo parlando di San Lorenzo in campo E poi ancora Guerriero Gallico e Armigero L'arte bellica scopre i segreti Siamo a Mondolfo Per la Notte della Cultura Saranno aperti musei civici Castello e complesso di Sant'Agostino La pagina di Senigallia Via i parcheggi dallo stadio E sul lungomare è caos Sosta scatta domani la rivoluzione Patto con gli ambulanti Tornano in piazza Garibaldi E poi la pagina della cronaca di Senigallia Un ragazzino di 16 anni Che si è sentito male sugli scogli Giovane ferito al volto Invece colpito da una medusa Doppio soccorso ieri mattina sulla spiaggia Una ragazza sin fortuna Giocando al beach volley Poi le lacrime per questa donna Uccisa da un brutto male a 43 anni Era un'animatrice parrocchiale Lascia due bambini Parliamo di Raffaella Zezza Che appunto era l'anima della parrocchia E adesso le pagine di Pesaro Del Corriere Il patto tra Pesaro e Fano vale 8 milioni di euro Disponibili da ottobre Le risorse europee conquistate Grazie ad un progetto unico E al gioco di squadra Conservatorio, ROF, Fondazione Rossini E liceo insieme per il campus della musica Ottenuti tre risultati La città della fortuna Investe nel recupero del Sant'Arcangelo Invece per il carnevale Il brutto tempo spegne le candele La festa è rinviata Slitta sabato prossimo L'evento che coinvolge spiaggia e centro storico Addio alla terra di nessuno In via dell'Acquedotto Sempre a Pesaro Adesso si cambia Con il comune più partner Per la riqualificazione di una zona degradata L'Inter Club festeggia Gli ultravis bacchettano Party nero-azzurro D'inizio stagione Con un invito Tifate anche per la città E poi sotto Pizza alla Catalana Colpo Blaz per Italservice Il patron del Pesaro Fano Si è assicurato il bomber Stiamo parlando del calcio A5 E poi c'è anche la notizia La diciamo Perché credo che sia anche giusto Visto che Queste due ragazze Camilla Spadoni Ed Elisa Fuligna Che hanno trionfato ancora E sono niente meno che Campionesse del mondo Under 16 Sulla sabbia La coppia vince a Cervia Dopo il successo di Mosca Don Ugo Che era stato Sul quale si era un po' chiacchierato Nelle ultime settimane Torna in parrocchia A Valle Foglia Il parroco di Colbordolo Montefabri E Talacchio Don Ugo García Oliveros Per tutti Don Ugo Dopo Ferragosto Riprenderà servizio Nella sua parrocchia Il caso è chiuso Dopo la sollevazione popolare E l'intervento Dell'Arcidiocesi Sui social La curia Dice Su di lui Su Don Ugo Soltanto Dicerie E adesso apriamo La pagina di Pesaro Del resto del Carlino La pagina Principale Con la fotografia È per il Vecchio palazzetto Dello Sport Il Palafestival Che però può attendere Affidate infatti Le prove di carico Per il recupero Del vecchio palazzetto Di Pesaro Se ne riparlerà Per il ROF In programma Nel 2018 Il meteo Fa paura Al comune Rinviano Rinviamo le candele In spiaggia L'atteso appuntamento Di questa sera Dunque è stato spostato A sabato Per le previsioni Che mettono pioggia E addirittura Mare mosso Due banditi Spaccata e fuga All'unieuro Agabice Tutto il lavoro In un minuto Ricco il bottino Di telefoni E di computer La pagina Della sanità Con due Pagine Dedicate A questa applicazione E questo sito Internet E questo sito Che è stato scelto Dalla regione Con Google Maps Gambini Presidente di Arevasta Quindi dei sindaci Di Arevasta Riunita Arevasta Solo dopo le ferie Ceccone Dei Cinque Stelle Il deputato Dice Già tutto deciso L'ospedale Si farà A Fosso Seiore Il sindaco Invece Temporeggia Il deputato Attacca L'algoritmo Crede Solo Al governatore Questo è il titolo Passioni d'estate Fuori programma Il concerto Della Rocca Siamo Nella pagina Di Fano Del Carlino Scatta la proposta Di matrimonio Davanti a centinaia Di persone Un ragazzo Di 27 anni Si dichiara All'amata Luca ci aveva Solo pregato Di non mancare Ma nemmeno noi Sapevamo Nulla Questo dicono Almeno Le mamme Poi andiamo Sull'altra pagina Del resto Del Carlino Abbandonato Nei bidoni Del cimitero Sotto il Solleone Così l'ho salvato Il racconto Di questa donna Lorella Talamelli Con il cagnolino Che adesso ha adottato A cui è stato dato Il nome di Camilla E sopra Il cimitero Una fotografia Con il cimitero Di Rosciano Dove appunto È stato trovato Il cagnolino Gli abbiamo messo Il microchip Adesso Appunto Si chiama Camilla E poi L'ultima pagina Quella di Fano Del Carlino Interquartieri Dopo 52 anni Il comune Ora accelera Pronta L'interquartieri Entro settembre L'annuncio è stato dato Dall'assessore Fanesi Che parla di regalo Al quartiere Poderino Perché? Perché Il giovamento Più grande Evidentemente Lo avrà Questo quartiere Da cui verrà Drenato il traffico E le via Della giustizia E le via Della fornace Saranno alleggerite Appunto Da tutte le auto In transito La resegna stampa Finisce qui Grazie per la vostra Cortese attenzione Vi ricordo che questa sera C'è il telegiornale Delle 20 e 30 E poi il sito internet Occhianotizia.it Arrivederci Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti.